Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di BattleforGames Io sono Carlo e oggi siamo qui di nuovo su Battlefield ragazzi Siamo tornati per farci una partita in live commentary proprio così alla cazzo Come viene? Viene ragazzi Volevo utilizzare l'ace 52cqb o ace 52cqb Vai possiamo personalizzarci Vediamo come se l'ho messo col coyote Ok va bene qui niente Senza silenziatore e con impugnatura Mimetica Vediamo ci mettiamo Vediamo qualcosa di figo Ci dai questo qui ci sta ragazzi vai Siamo pronti per lanciarci sul campo di battaglia e fare la strage Oh mio dio qui c'è subito del casino Siamo degli assalti c'è un carro lì davanti Facciamo che ce la fughiamo prima ancora di morire che è meglio Vedete ragazzi Vedete comunque siamo alla bandiera È un periodo che ho iniziato a giocare a battle Dopo più o meno due mesi di pausa Sì diciamo che da quando mi ero stancato di questo gioco Sono passati più o meno due mesi E nell'ultima settimana ho ricominciato a giocare a ripreso Ok sto utilizzando appunto questa fantastica armettina Che è più o meno un cannone portatile Che subito non ne sapevo usare Se l'ho imparato a usare Però ovviamente in questo video ragazzi non faremo niente Come sempre Perché quando uno registra un gameplay Non riesci mai a fare nulla Perché mi devo concentrare anche a parlare per dire qualche cagata Perché quelle che dico sono tutte cagate E quindi non so fare niente Vai buttiamoci su C Oh mio dio che cacchio mi è esploso davanti Vai ci buttiamo su C A conquistarlo Ci riusciremo Io e questo tipo qua davanti Che si chiama ABC Aspettami la gente ABC 86 Come cacchio fai a scriverlo? La Uno è andato No No Ragazzi c'è due Ve l'ho capito solo come faceva quel tipo lì A scrivere il suo nome Tutte le volte che deve fare il logger Ok che forse l'ha pre-impostato Che si fa Che entra da solo Però Vai no Ucciderò No mi ha ucciso prima lui ragazzi Va bene però ci siamo Ci siamo Sta venendo Una cosa Dopo anni che non giocavo Che non facevo un video su Battlefield Sta venendo discreto Ragazzi Facciamoci un dieci minuti insieme Che ne dite ragazzi Ci buttiamo subito Non so se non è che ci sia qualcuno Ci prendiamo Non mi sembra che ci sia nessuno Ci prendiamo Questo è fantastico Squad Diamo Spariamoci a missile ragazzi Là c'è un carro Quindi ci andiamo Lontani Dato che non ho mezzi Per tirarlo giù Oh mio dio No Ah Ok Calma Là c'è un carro Amico No Non mi imballare Amico Vai 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 Aiutami Aspetta 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 Ti prendo io Salgo sull'ava D No Salgo Sul l'ava D Sì Ok Traslocata dal World All'ava D Fermati Ok Va a decidere a piedi Faccio prima Poi lui muore il raga ragazzi L'avevo detto che moriva Quando io dico che una persona E addirittura Anche la coltellata Ragazzi Lo ha girato Là ne avevo visto un altro Sbaglio Quanto tempo era Che non accoltellavo qualcuno Mamma mia Le soddisfazioni di una vita Qui catturiamo Oh mi Scusa amico Giuro che non volevo Giuro che adesso Ti do anche un kit medico Che Mi devo curare anch'io Te lo do solo perché Mi devo curare anch'io No Qui c'è qualcuno Lo sento Eh amico Alla ti dovrei rianimare Ma non ce la faccio Perché sono un attimino Incasinato Ma molto incasinato Finisco di catturarla Bandì Là che c'è Ho visto Un pallino rosso Ah che c'è Oh No Tu sei amico C'è anche guardia la mappa Quindi vado a me Sì ok Andiamo a fare un po' di strage Un po' di strange Non di strange Non c'ho fatto real No No Giuro che non mi ucciderete Perché io mi kit medico No Dove cacchio è Ah Camperato sopra la casa Che due palle Non l'avevo visto Però dai sta andando bene Siamo settimi Quattro uno Quattro uno Adesso due Andiamo 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 Sponiamo qua Dai Troppo Problema Un carro nemico Si Facciamo passare Non di passare niente Si Orse Lui Mi ha fatto benissimo Mi ha giocato il tetto Se no mi uccidono Vi prego ragazzi Io sono un soldato tranquillo buono Che non fa male a nessuno Forse No 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 Non mi ucciderai Vaca boy ragazzi Che skill Mi sono buttato giù dal tetto Per riuscire a scampare al tipo Che mi sparava E se ci torno Ci penso due volte E provo a ucciderlo Dov'è? 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 C'è No No Non l'avevo visto Quello Ci vuole solo Della calma Perché poi mi sembra di aver visto Un tizio Sulla mappa E mi sento Che mi ucciderà Quel tizio Dove sei amico Che si deve cercare Ah mi sape sul tetto Si è sul tetto Forse non è sul tetto Andiamo a vedere Mi sento che appena metto fuori la testa Che mi vede Mi salta via la testa Oh 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 Ciao amico Che era sul tetto Forse non è quello che mi ha ucciso prima Anzi sicuro è quello che mi ha ucciso prima Ok Quello amico Vediamo qua sotto se c'è Qualche Nessuno Ok Sembra amico Mi c'è un carretino Già Oh Mi c'è un carretino C'è un carretino C'è un carretino E poi la prendiamo Ok Fugatela Fugatela proprio pesantemente Odaita campo non No seriamente era nemico Quello Quel cacchio è spawnato sul tetto Non l'avevo visto completamente Stavo guardando la mappa Ho visto il pallino rosso Detto Oh mio dio ma Mi sono fatto trollare da uno sul tetto Non ci posso credere Lì mi ributo sul tetto Quello è sempre campionato interando Ma lui comunque No No Non lo so Pensavo fosse un nemico Ok Devo andare più Dentro da Perché se non muore È duro che Ok Ok, compri la bandiera E quello No, che è che mi sta sparando E quello non lo... Era un nemico Mi sento che mi stava seguendo il 62 Ma pro Oh, non muore questo però Giù ti seguo fino alla morte E' morto, vai cagare Devi farmelo uccidere a bicicolo di prima Eccolo No, catturerò io Lo catturerò Giuro che ti aiuto a catturarlo No, no, sì Kit medica Mamma mia ragazzi Oggi ho fatto una partitona Giuro che adesso mi uccido altri due o tre E poi finiamo il video No Non l'avevo visto questo Eh, si possono vedere tutti eh Quando li vedrò tutti Diventerò un pro veramente Però dai siamo quinti Non siamo neanche malaccio Siamo in positivo Più di così cosa vuoi della vita Uno mi verrebbe a dire Un buccano Ok, basta Mettite spalle E adesso Sono tristissime Ok, facciate Non so che se salgo qua Mi seccano subito Me lo sento Io guardo giù Ragazzi Anche se non posso Non c'è nessuno E' incredibile No Dov'è? Eccolo Che p***a ragazzi La gente sui tetti I camper sui tetti Ci sono sempre Vai, vai, vai Ne facciamo fuori altri due Poi ho detto che voglio finire Il video Il video Il problema ragazzi È che da quando dico così Quei due Non moriranno male Ci metterò sei giorni Per farne fuori due Concentrato Uno E due La Doppia Easy Facilissimo Stato troppo facile No, come minimo Li faccio fuori un altro Come minimo Devo Finiamo il video Quando è meglio Ancora c'è la bandiera Quindi così C'è un bello Corazzato nemico Si trova a est Nella tua posizione Ti giuro Che vado a tirare Giù un carco A forza di Uno E due Quindi Stava in due punti Ci sarà qui Qualche pizze A cui sparare Qui vicino ai carri Questo qui vuoto Bravo Bravi ragazzi Vi siete comportati bene Avete visto Toccarlo Complimenti Vi avete lasciato Qualche nemico Da uccidere? No? Grazie Siete stati Non tanto gentili Potevate lasciarmi Questo qui dietro Fuori dalla mappa Ah è il loro spawn Però io vado Dall'altra parte Vorrei passare Un carrettino Che potrebbe essere Un po' dannoso Tipo 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 Dove sono? Tipo quello? No Qui c'è della gente Eccolo Eccolo Perché lagga Ok Lagga Vimponico No No Non uscire Non usci Ne hanno uscire Va bene ragazzi Direi che anche Questo video Possa concludersi qua Io spero che vi sia piaciuto Ho cercato di sclarare Il più possibile Cercare di farvi divertire Il più possibile Di intrattenervi Il più possibile Ok ho fatto il possibile Quindi ragazzi L'avete capito Che dire Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Commentatemi questo video Scrivendomi magari Qualche arma Da usare In qualche video Qualche Qualche Diciamo Video strano Da fare Con qualche arma Tipo qualche missione Tipo fai 900 miliardi Di kill Con il c4 No Vi prego ragazzi Non fatemi fare queste cose Se avete voglia Ma si dai Provate a proporle Quindi che dire Il video si conclude qua Vi saluto Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima video Ciao